Arroccata su sette colli calcarei, Cagliari si distende lungo il Golfo degli Angeli, nel cuore del Mediterraneo. Nata in epoca neolitica, importante crocevia di traffici mercantili durante il periodo di dominazione fenicio-punica, vive nei secoli diverse dominazioni. Tutte lasceranno segni evidenti nell'ordito urbano della città, nei suoi monumenti, nei suoi edifici. Nel 1948 diventa ufficialmente capoluogo della Sardegna, attirando a sé persone provenienti da tutta la regione. Cagliari è collocata in un contesto paesaggistico di pregio, ricco di testimonianze storiche. Attualmente vive un intenso processo di sviluppo urbanistico e culturale, con l'obiettivo di diventare una città multietnica e a vocazione turistica internazionale. Di questo sviluppo l'Università degli Studi è parte integrante e rilevante. Fondata da Filippo III di Spagna, l'Università di Cagliari nasce nel 1620. L'Ateneo rappresenta il principale polo di attrazione per gli studenti della Sardegna. L'Università degli Studi, impegnata a promuovere un confronto permanente con il sistema produttivo ed istituzionale, costituisce un motore di sviluppo sociale e territoriale, attraverso la valorizzazione della qualità nella ricerca, nella didattica, nell'attività sanitaria e più in generale nel trasferimento delle conoscenze al territorio. L'Università di Cagliari oggi offre servizi efficienti quali biblioteche dotate di tutti i comfort, postazioni di orientamento dislocate in tutte le facoltà, tutoraggio didattico, laboratori d'avanguardia inseriti in centri di eccellenza, impianti sportivi, progetti di mobilità studentesca e molto altro ancora. Negli ultimi anni l'Ateneo Cagliaritano ha prestato particolare attenzione ai servizi erogati entroverso internet, garantendo agli studenti una rete wifi gratuita e investendo sull'e-learning con i corsi di riallineamento online. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS